E' così, perché 9 persone al giorno sono più di 3500 persone all'anno e significa come se un paese come la tabellotta venisse cancellato dalla cartina geografica. Pensate voi che è ostendente quello proprio di sensibilizzarvi a quello che è il rispetto delle regole quando siete alla guida, che è una cosa importantissima. Io spero. Grazie. Ti conto benissimo, ti conto benissimo. E tra l'altro non c'è, non ci sono solo animi e vittime, ma ci sono anche colori che hanno sbagliato questo. Facendo l'imprevisto, non c'è solo la colpa nostra, ma ci può essere il cane che ti attraversa, l'imprudenza di qualcun altro, che è il cane che non c'è.